ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare ok fit md elf di maria di domenico ultimo aggiornamento 25 marzo 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso ingredienti a cosa serve ok fit è un integratore appartenente alla categoria degli integratori per il controllo del peso e dell'adipe è commercializzato in italia dall'azienda md elf di maria di domenico informazioni commerciali titolare md elf di maria di domenico concessionario md elf di maria di domenico categoria di appartenenza integratori per il controllo del peso e dell'adipe forma farmaceutica compressa confezioni ok fit 20 compressi da 910 mg 18,2 g indicazioni ok fit è un'integratore alimentare contenente per ogni compressa una miscela bilanciata di estratti vegetali altamente titolati e purificati modalità d'uso per ulteriori informazioni scrivere a info in the alt punto it ingredienti coleus for scoli radici s 250 mg titolato al 10 per cento in forscolina vitis vinifera semi s 200 mg tit al 95 per cento in apc salvia milti orizza radici s 200 mg tit al 1 per cento in tancinone griffonia simplici foglie semi s 79 mg tit al 95 per cento in cinque idrossi e le triptofano e melilotus officinali serba con fiori s 23 mg tit al 18 per cento in cumarina fonte codi fa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato